Sai che quest'anno non so proprio dove andare, a Capodanno? Vieni qua! Qua dove? Al Florida, di Ghedi, Brescia. Ah, perché io pensavo di andare a... No! Vieni qua! Mi hai proprio convinto! Albertino, Fargetta, Prezioso, Molella, Giuseppe, Gigi D'Agostino, Iluna Pop. Posso venire anch'io? No, anche alla Celtrona. Per informazioni, Geek Promotion, 02-688-3399.